Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi ragazzi andremo ad allenare gambe partiamo con squat, bilagere carico, 70 kg, faremo 4 serie per 5 prima però ci andremo a pesare 59.95 kg, massa grassa 13.7 kg rispetto all'ultima volta abbiamo perso 50 grammi e 0% di grasso corporeo non è cambiato praticamente nulla adesso ragazzi, esercizio 2, faremo save for legs, ovvero la sedia quell'esercizio che avete visto settimana scorsa faremo 3 serie per un minuto con Kiki Kili ciao 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 adesso ragazzi come terzo esercizio leg station, 45 kg è pronto per la carica faremo 4 serie per 10 ragazzi, adesso leg caro ragazzi, adesso leg caro 3 serie, 3 serie, ma scusate 4 serie per 10 con 32 kg ragazzi, che voglio comprendere ragazzi ultimo esercizio per gambe faremo polpacci 3 serie per 12 15 ripetizioni con 70 kg adesso ragazzi addominare faremo crunch alla corda 3 serie per 20 ripetizioni con 20 piedi 3 serie per 10 ripetizioni con 40 kg Crunch terminati, adesso faremo il laterale. Ovviamente saliamo 10 kg, mettiamo solo 10 kg per... Non fate caso al rumore, sto dicendo. Mettiamo solo 10 kg per fare il laterale perché sono più dure ovviamente. Ciao! Gli laterali terminati. Ragazzi, durissimi. Bruciano un casino. Adesso andiamo a fare addominali bassi. Ovviamente ragazzi bassi mi elevano un kg per gamba e farò il reverse crunch. 3 serie per 15-20 ripetizioni. Come laterale abbiamo fatto 3 serie per 15 all'atto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi, allenamento terminato. Vi lascio al check fisico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.